Segui La Sette anche su Instagram. La Sette, ovunque con te. Me la sono persa prima, ma mi interessava molto. Carlo De Benedetti, si dice, testera numero uno del Partito Democratico quando nacque. Lei oggi è a favore dello scioglimento del Partito Democratico? Ma senta, io sono a favore di una drastica riflessione. In particolare sono favorevole a quello che ha detto il senatore Zanda in un'intervista, mi pare, a Repubblica. Oggi il Partito Democratico non sa più cos'è. Non lo sanno loro. Infatti si è visto in campagna elettorale. Hanno parlato contro gli altri, ma non hanno mai parlato su che cosa proponevano loro. Non hanno mai nominato la parola giovani per un partito progressista. Non si è mai nominato i giovani. Cioè, voglio dire, il partito è oggi totalmente una scatola che contiene dei potentati. Ma non ha assolutamente né ideali né idee. Dica la verità, sta rivalutando Giuseppe Conte. Dica la verità che sta rivalutando Giuseppe Conte. No, quello mai nella vita. Questo sarebbe stato un titolo da prima pagina, se gliela facevo dire, ma non ci sono riuscito. Beh, però insomma, in questo momento parla da leader della sinistra, ingegnere. Da leader della sinistra? Ma io sono semplicemente un convinto della necessità di ridurre le disuguaglianze nell'interesse anche... No, 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 lei parla da leader. Conte parla da leader della sinistra. Ah, Conte. Vabbè, ma quello era anche avvocato del popolo. Non ha importanza cosa dice. Allora, Paolo Giordano...